Lauretana si veste di rosa, sarà così l'acqua ufficiale del Giro d'Italia per i prossimi tre anni, a partire dalla 105esima edizione, che avrà luogo dal 6 al 29 maggio di quest'anno. L'accordo è stato siglato proprio ieri sera dal presidente di RCS Media Group Urbano Cairo e dal presidente di Lauretana Giovanni Vietti, con l'amministratore delegato Antonio Pola. L'accordo prevede la presenza ufficiale dell'acqua più leggera d'Europa anche alle grandi classiche del ciclismo. A cominciare dalle strade bianche, che si correrà il 5 marzo, dalla Tirreno-Adriatica, 7-13 marzo, continuando con la Milano-Torino, il 16 marzo, e la prima classica monumento della stagione, la Milano-Sanremo, il 19 marzo. Poi, ad aprile, dal 12 al 15, sarà il Giro di Sicilia, prima del Giro d'Italia. Infine, in autunno, sarà la volta della Gran Piemonte, 6 ottobre, del Lombardia, 8 ottobre. Per Lauretana è un altro importante traguardo questo, che conferma l'imponente crescita del brand negli ultimi anni. Il Giro è un capitolo significativo della storia, non soltanto sportiva, del nostro paese e del nostro continente. Dunque, per l'azienda di Graglia, rappresenta un'importante opportunità per far conoscere le caratteristiche uniche di acqua lauretana in tutta Italia e all'estero, considerata l'ampia copertura mediatica dell'evento a livello internazionale.